Stefano Salieri, se li commentiamo più volentieri forse il primo tempo dove onestamente la squadra ha dato il massimo, poi nel secondo tempo quando hai veramente pochi a disposizione e quei pochi qualcuno è anche acciaccato, inevitabilmente le squadre che hanno più rotazioni e anche più talento ti montano addosso? Più talento ma anche più fisico perché oggi noi c'era in campo una disparità fisica sia di chili che di centimetri importante, oltre che di esperienza in questo campionato. Abbiamo fatto i primi due quarti di grande palacanestro, io sono molto contento, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato una crescita esagerata, sono un gruppo che non si risparmia, lavora sempre, perciò a loro faccio solo un grande applauso perché bravi bravi. Poi è chiaro che dopo la fatica, i crampi, siamo contati, si è fatta sentire, non voglio rifugiarmi dietro questo perché Milano ha vinto meritatamente proprio in virtù anche di una rotazione più lunga, di giocatori bravi, esperti di questo campionato, i loro lunghi, hanno fatto tanto. Lo conosci anche bene, mi sembra abbia giocato anche una buona partita Thomas Deming, no? Sì, Thomas ha fatto una grande partita, l'ho rivisto ai suoi livelli, è un giocatore in questa categoria qui, importante, importante. 46-41 all'intervallo, più 5, per quanto avevate giocato bene, quelle triple messe a segno alla fine da Milano non vi hanno permesso di andare in vantaggio negli spogliatoi con un margine più alto, che era quello che probabilmente vi meritavate, e poi tirare con il 70% anche la ripresa era impossibile, francamente, no? No, sono d'accordo, noi abbiamo fatto i primi due quadri, abbiamo giocato benissimo, meritavamo ad andare a riposo con una decina di punti di vantaggio, che oltre alle triple loro sono stati anche il canestro da tre punti convalidato dopo l'infrazione di 24 secondi nettissima da loro e il buono canestro dato sull'infrazione che non c'era, questo anche riconosciuto da tutti, perciò penso sia sotto gli occhi di tutti, non voglio rifugiarmi dietro questo, ma sono due dati di fatto. In ogni caso, era solo per fotografare un dominio dei primi due quarti a livello di gioco, dove hanno giocato molto bene. In attesa del rientro di Valentini, che come ci siamo detti in settimana dovrebbe essere abbastanza vicino, resta sempre questa casella del mercato, questa icona del mercato aperta, questa squadra, insomma, un inserimento deve farlo per forza, no Stefano? Sì, un inserimento o due sono basilari, perché noi dobbiamo presentarci nel finale di campionato e dobbiamo procedere per step, perciò la prima regola è evitare l'ultimo posto, perciò questo non c'è niente di scontato, perché le squadre si stanno tutte rinforzando, ci sono degli sconti diretti e perciò questa è la prima regola. La seconda è cercare di tenere la posizione migliore in caso di play-out e la terza è se si può evitare i play-out, però bisogna procedere per un gradino per volta e in ogni caso per arrivare in fondo abbiamo bisogno di energie fresche, perché abbiamo fatto delle uscite, abbiamo bisogno di fare delle entrate, perché questo è un gruppo di ragazzi adesso perfetto, si è visto, penso sul campo, una crescita tangibile a livello di gioco, di unione, di tutto, adesso dobbiamo aiutarli a dargli qualche energia in più.